Sono Rocco Ranieri, uno dei titolari e oggi festeggiamo 50 anni della nostra bellissima Golf. Eccola qui, questa è la nostra Golf GT da 265 cavalli, vi aspettiamo per la prova da domani in poi. Per quanto riguarda le motorizzazioni abbiamo un benzina puro, un mild hybrid senza la presa, un ibrido plug-in da 204 e 245 cavalli con una batteria da 20 kilowatt e vi dà un'autonomia di 100 chilometri solo in elettrico. Poi abbiamo sul benzina questo che vedi qua, che è il GT da 265 cavalli, per poi arrivare è un benzina 330 versione R, sempre 2000 TFSI. È un diesel da 116 e da 150 cavalli. Siamo qui questa sera impegnati per Autor R a Tito Scalo, a Potenza e speriamo di fare un bel concerto a supporto di questa concessionaria che ci ha chiamati per la presentazione della nuova Golf. Sarà un bellissimo spettacolo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS